Un applauso al country, salve la tua parte, grazie! Gaia, ha compiuto un anno, è la cantantessa più giovane del gruppo. Si sente anche nell'album Attanadara, su tutto si sente Arika Gaia, nel fosco film del secolo morente Gaia è nella sua prima interpretazione. Son del popolo gli ardini, contadini ed operai, non c'è spirro e non c'è fascio che ci possa piegare mai. E collegami cedere, un solfascio noi faremo, sulla piazza del paese, un bel fuoco accenderemo. Già nel popolo gli ardini, contadini ed operai, non c'è spirro e non c'è spirro e non c'è fascio che ci possa piegare mai. E con lei che non ha mai letto prova sicilmente, sul passio noi faremo, sulla piazza del paese, un bel fuoco accenderemo. Non c'è spirro e non c'è spirro e non c'è fascio che ci possa piegare mai. Chi possa piegare mai è collega, un solfascio noi faremo, sulla piazza del paese, un bel fuoco accenderemo. Portamo in silenzio nelle galerie, perché chi stava fuori si preparasse. Oggi anche gli armari nel coltello accenderemo un fronte proletario contro il fascismo. C'è nel popolo gli armari nel coltello accenderemo un fronte proletario contro il fascismo. C'è nel popolo gli armari nel coltello accenderemo un fronte proletario contro il fascismo. C'è nel popolo gli armari nel coltello accenderemo un fronte proletario contro il fascismo. C'è nel popolo gli armari nel coltello accenderemo un fronte proletario contro il fascismo. Se noi siamo divisi vince il padrone. E' la prima volta che facciamo le prove tutti assieme. Grazie, un altro applauso. Si sente come abbiamo fatto un proletario. Grazie. Vi dedichiamo l'ultimo brano del nostro repertorio. Inno delle barricate, uno dei nostri amici preferiti, che si chiama Graziano, che noi amiamo da sempre, si è messo a piangere davanti a questa canzone. Erano 12 anni che non piangevo. Grazie. 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 Grazie.